fratelli sono johnny creek stavolta ci spariamo un altro live un tutti contro tutti ma con tipo un'arma che uso mai praticamente la k47 col fucilozzo sotto e nuke town dubale nuke town mamma mia mamma mia la salute anche la gola qualunque roba non è possibile ognuno c'erano 70 gradi ieri adesso ce ne sono due non si può pretendere una roba del genere no 70 gradi giorno prima due giorno dopo mille il giorno prima 800 sotto zero il giorno dopo ma che cazzo è così io il live però di tutti contro tutti su nuke town io prevedo un disastro totale fratelli anche perché c'è gente abbastanza prestigiata secondo terzo quarto secondo terzo non so roba del genere me la godo sì me la godo me la godo te spacca dai su quanto tempo ci vuole black ops black ops dai battlefield 3 modern warfare 3 sto black ops in pensione basta tanto c'è modern warfare 2 è molto meglio viva vai andiamo ma cosa c'è il fucile sotto sì vabbè lo ho già perso ho già perso quanta gente c'è vabbè ho preso il primo ma dove cazzo sono ma dai ma dai ma cos'è immortale sto tizio no ma cos'è ma non è possibile ma c'è qualcosa che non va cioè ma non si possono vedere delle robe del genere in black ops cioè solo qui si vedono c'è uno spas che fa cagare c'è uno spasso sotto un'arma c'è un fucile a pompa sotto un'arma che non uccide da un millimetro ma non è possibile dai su gianni su cioè ma che roba è così ma un po di un po di fantasia qualcosa ma ma dov'è ma quanti camperoni ci sono qua che palle quelli che camperono da quella finestrella mamma mia insopportabili brother guarda qua guarda questo qua che lancia i razzi da qua sopra è morto ti è ma dai ma che roba è sto fucile ma fa schifo sto fucile della k attenti rc sti nemico individuato oh per la peppa no disgraziata che culo no no mamma mia ma sta k47 spara non capisco ma cos'è è che io con i mitragliatori faccio cagare poi diciamo tutti contro tutti sul nuketown proprio no ma dai basta da prendermi nel culo no mio quanti colpi ci vogliono questa roba vabbè è forte come arma sono io che con i mitragliatori proprio non sono capace anche perché non ci ho mai giocato con i mitra che questo qua mi è passato di fianco ma puoi eh vabbè ma un caricatore ma cos'è dove è finito ma è quello lì che si mette l'infiltrazione tattica ma che palle oh eh gianni questa k47 è sminchiato solo il mio no ma dove punta non lo voglio l'aerospia dopo lo mando ma dai due colpi con un fucile a pompa ma cos'è ma guarda che roba ma dove vanno a finire i colpi ragazzi ma sul serio cioè non capisco dove vanno a finire i colpi del fucilozzo fanculizzati e balle nooo no sul serio ma i colpi del fucilozzo a volte ma dove vanno no cioè ve lo chiedo a voi perché penso lo sappiate più di me comunque non lo voglio l'aerospia anzi vabbè dai ora lo chiamo va no un attimo sto chiamando l'aerospia l'aerospia disponibile la testa di kaiser il nostro aereospia in volo ma sono tutti qua c'è guacche roba non si può camperare sopra il letto ma eeeh fanbrodo sto rcxd vabbè dai cerchiamo di arrivare tra i primi tre va eeeh che massacro cioè guarda quello dove campera non si può così ciao grandissimi alla prossima vi stimo a